In questi anni si è assistito all'emersione di un fenomeno, quello del disturbo da gioco d'azzardo, che ha assunto dimensioni enormi non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale. Molti sono i fattori che hanno determinato un'impennata di tale problematica, primo fra tutti la crescente e capillarizzata offerta di gioco legale, con la diffusione di apparecchiature sempre più tecnologiche e sofisticate, fruibili da un pubblico sempre più vasto. Ad aggravare la situazione ha contribuito sicuramente la crisi economica degli ultimi anni, che ha causato situazioni di impoverimento, con ripercussioni di vasta portata, tanto sui singoli quanto sulle famiglie. Tale fenomeno è in costante crescita, tanto da rappresentare una delle sfide maggiori con cui le politiche sanitarie e sociali devono confrontarsi. Nell'ottica di contrastare il fenomeno, la ASL Lanciano Vastocchietti ha redatto il suo piano aziendale sulla base dei dati epidemiologici e delle caratteristiche specifiche del territorio, individuando obiettivi e relative attività, finalizzate a contenere la diffusione del contagio, che hanno rapidamente trasformato gli stili di vita. Come nasce l'esigenza di creare una campagna di sensibilizzazione sociale? Questa campagna nasce con l'esigenza di raggiungere due obiettivi principali. Il primo obiettivo è quello di informare e sensibilizzare il maggior numero di persone sul fatto che il gioco d'azzardo, se ripetuto troppo frequentemente, o in particolari situazioni di vulnerabilità che tutti attraversiamo nella vita, periodi di maggiore fatica, di stress, di stanchezza, ecco, in questi periodi il gioco d'azzardo può trasformarsi in una trappola che ci incaglia nei suoi meccanismi e ci tira dentro, sempre più dentro, mano a mano, sempre più dentro, fino a farci consumare non soltanto il denaro, ma anche le relazioni con le persone che per noi sono più importanti nella vita, il lavoro, lo studio, gli hobby, la tranquillità, il sonno, la salute, arrivando fino a bruciare la nostra dignità quando si è costretti a mentire per nascondere il nostro vero comportamento di gioco che riteniamo eccessivamente esagerato, oppure quando dobbiamo chiedere denaro in prestito che non saremo mai in grado di restituire, o quando a volte addirittura ci appropriamo indebitamente di denaro non nostro. Ecco, il primo scopo è quello di informare sui rischi del gioco d'azzardo. Il secondo obiettivo è quello di far conoscere a tutte le persone che nel proprio territorio, vicino a casa loro, quindi a portata di mano o di telefono, ci sono dei professionisti esperti del settore dei servizi che sono pronti a dare il proprio aiuto per capire il problema, per dettagliarlo, per entrare in merito ad esso e capire come risolverlo. E questo in maniera molto semplice, senza prenotazione, senza alcun costo a carico del cittadino, in presenza se questo è possibile o anche a distanza se la persona non può essere presente o non lo desidera, è sempre nel pieno rispetto della persona, della riservatezza e della privacy. La campagna verrà, diciamo, riportata nel dettaglio in una prossima conferenza stampa che stiamo organizzando per il mese di giugno, insieme a tutti i partner che hanno contribuito a che si possa realizzare, ovvero la Regione Abruzzo, l'Anci, la ASL di Lanciano Vasto Chieti, la cooperativa sociale SGS La Rondine di Lanciano e l'agenzia pubblicitaria Accorto Factory Image di Vasto. Le azioni e le strategie di questa campagna sono state pensate e realizzate in maniera flessibile, differenziata ma potente, perché possano permettere a tutte le persone nel rispetto delle differenze di età, culturali, linguistiche, anche di competenze digitali, di ricevere il messaggio e di comprenderlo nella maniera migliore. La principale novità è la creazione di uno sportello diffuso. Di cosa si tratta? Nonostante il gioco d'azzardo a rischio o problematico, interessi nell'arco della vita una ampia fascia della popolazione e l'Abruzzo è la maglia nera dell'Italia, cioè una regione in cui il problema è presente, quindi è molto grande. Nonostante questo, come dicevo, le persone che arrivano ai servizi specialistici dedicati a chiedere aiuto sono relativamente poche e arrivano anche piuttosto tardi, quando i problemi sono diventati più gravi, molto complessi e quindi è più difficile trovare delle soluzioni. E questo avviene in genere o perché le persone non sono consapevoli che il gioco d'azzardo può diventare una malattia o perché non conoscono i servizi che sono presenti all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per la cura del gioco d'azzardo oppure perché hanno vergogna del proprio comportamento o temono di essere giudicati e stigmatizzati. Come fare a risolvere questo problema? Ci siamo posti questa domanda e abbiamo pensato e realizzato un sistema che permetta di fare incontrare la richiesta d'aiuto e la risposta d'aiuto in maniera molto più rapida e semplice. Quindi abbiamo moltiplicato i punti di incontro tra i cittadini e gli specialisti esperti dei servizi creando degli spazi di accoglienza, di ascolto, di consulenza diffusi su tutto il territorio. Abbiamo cioè creato una rete dei sportelli diffusi. Diffusi dove? Nei luoghi dove le persone vivono, che frequentano abitualmente, quindi negli uffici del comune, nell'ambulatorio del medico di medicina generale, nelle farmacie, nelle sedi delle associazioni sportive, ricreative, culturali, religiose, nelle sedi delle associazioni dei consumatori, in parrocchia. E quindi in questo modo cosa abbiamo voluto fare? Rendere il servizio così facilmente accessibile e così vicino al cittadino da permettere a noi di dare le risposte il più precocemente possibile e di affrontare il problema quando le soluzioni sono più facilmente implementabili.